Il segreto, anticipazioni spagnole, la difficile scelta di Rosario. Nel corso delle prossime puntate spagnole, che in Italia andranno in onda tra alcuni mesi, i telespettatori della soppa iberica si vedranno costretti a dire addio a due personaggi davvero incredibilmente amati. Da quello che emerge si tratta di due donne, entrambe molto importanti per Puente Viejo. Da una parte Emilia rischierà seriamente la vita e dall'altra Rosario deciderà di ascoltare il cuore e cambiare la sua vita per aiutare una persona che le sta molto a cuore. Sappiamo che Rosario è finalmente riuscito ad avere un nuovo avvicinamento a Nicolás, a seguito della morte di Mariana. Come sappiamo, il tragico evento ha rappresentato un vero e proprio shock per tutta la famiglia, oltre a gettare nello sconforto tutti gli abitanti di Puente Viejo. Poi, proprio nel momento in cui Rosario sembrava in procinto di recuperare un po' di equilibrio con la sua famiglia, tramite Ramiro veniva a conoscenza del fatto che Prado avesse fatto ritorno a Madrid. Dal momento che la piega degli eventi sta assumendo connotati così specifici, appare evidente che Rosario deciderà di seguire ciò che le dice il suo cuore e, compiendo una scelta come solo una buona madre può fare, non potrà fare altro che andare da sua figlia per starle vicino. Scopriamo che Prado, ormai stabilitasi a Madrid, sembra aver deciso di dare seguito ai suoi studi in medicina. La storia d'amore con Mattias è ormai soltanto un ricordo, proprio a causa di quella lontananza che sembra aver compromesso irrimediabilmente il loro rapporto. A Puente Viejo tutto è pronto per il viaggio di Rosario e le persone che le sono vicino si premurano di fare in modo che tutto l'itinerario abbia luogo in sicurezza, vista l'età avanzata della donna. Dal punto di vista della scelta così netta di Rosario, peraltro, tutti sembrano comprendere le sue ragioni che la spingono a partire per Madrid. D'altro canto, però, sono in molti a sperare che ella alla fine ci ripensi e decida di cambiare idea e ristare. Tra i più preoccupati figurano Nicolaz e Alfonso, che sembrano avere molto a cuore le sorti di Rosario, soprattutto in relazione alla salute dell'anziana signora, la quale potrebbe essere messa a dura prova da un cambiamento del genere. Rosario sembra apprezzare molto le preoccupazioni e i gesti delle persone a lei care, alla fine deciderà comunque di partire. Avrà luogo un lungo ed emozionante saluto da parte di Rosario ai personaggi di Puente Vieco e sarà anche l'ultima volta, a quanto pare, in cui i telespettatori vedranno la madre di famiglia nella S.O.P. Emilia corre un serio pericolo. La sua unica speranza sarà Ramiro. Se da una parte i telespettatori spagnoli sono pronti a dire addia a Rosario, dall'altra le sorti di Emilia prendono davvero una brutta piega. Assisteremo ad un durissimo confronto, scontro, tra lei e Raffaela, la quale sembra non vedere l'ora di togliere di mezzo la moglie di Alfonso. Sarà proprio quest'ultimo, peraltro, a carpire il tremendo piano che Raffaela ha in mente per la povera Emilia. La legherà e soprattutto la minneccerà di farla letteralmente saltare in aria attraverso l'attivazione di una bomba. Emilia e Alfonso si troveranno dunque a fronteggiare un pericolo ormai imminente. Rendendosi conto di non poter far nulla per evitarlo, ma c'è ancora un filo di speranza a puente piego. A salvare entrambi sarà infatti Ramiro, che con non poca destrezza colpirà violentemente Raffaela. Quando i due, cadendo, si ritroveranno a strapiombo proprio sulla bomba, Ramiro riuscirà incredibilmente a disinescarla, evitando dun soffio un tragico epilogo che sembrava ormai segnato. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.